Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con Remember Me! Aspetta, che cosa è stato? Forse questa parte l'avevamo già fatta. Soggetto numero 84, 178, Nelin, errorista, trasferimento autorizzato. Ah sì, giusto, eravamo arrivati nella zona praticamente iniziale, dove avevamo iniziato il gioco, infatti. Allora, qui devo aprire la porta, però mi serve l'energia ed è là in fondo. E' come... E' come rivisitare l'inferno. E' qui che hanno tentato di smontarmi. Prendila. Maledetto flashback. Mi sono appena intravista. Questo posto è il pentolone del diavolo. Forse è meglio che tu abbia dimenticato le pene che hai patito qui. Ehi, sei tu che mi hai tirato fuori da questo postaccio. Non potrei mai ringraziarti abbastanza. Basta parlare, sorellina. Ciò che conta di più è fermare il dottor Quaid. Va bene, andiamo. Allora, quella lì penso che si possa aprire. Buongiorno. Sono là che mi aspettano, però. Prima aprimi questa porta qui. Ah, c'è questo. Uh, un cerotto! 5 su 5, grandissima, grandissima. Vai. Abbiamo un po' di vite in più. Ah, cacciatrice di ricordi. Giusto in tempo. Che? Johnny Green Teeth. Ma non era morto nella metropolitana? Pensavo fosse morto. Oh, ma mi ha lasciato qua da sola? No! Con la robottina qua. Eh, vabbè. Vai. Aspetta. Allora, con calma. Con calma. Datemi. Eh, mi serve. Oh! No, non loro, non loro, non loro, non loro, non loro. Via, 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 via. Via, 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 via. Ho bisogno che si sblocchi la ruota. Eh, vabbè. No, da loro. Dov'è il tipo senza niente? Eccolo lì. Aspetta. Aia. Perché non si... Eccola. Ok, si è attivata. Via. 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 Io posso attivare tipo questa? Esatto. Dai, dai che li uccide lei. Dai che li uccide lei. Tanto io sparo a questa. È andata. Ottimo. No, non me li ha uccisi tutti. Eh, adesso questi però sono un bel problema. Mannaggia, questi come li faccio fuori io? Eh, sto morendo. Ah, è andato. È andato, ma io sono morta. Quindi. Questo qua me lo faccio tutto di... E cura. Sbloccamelo. Esatto. Ottimo. Ah, perché? Ma veramente? Allora, mi serve. Facciamo, vermi tutti. La bomba logica su di lui. Sposati. Sposati. Benissimo. A lui gli sparo. Oh, via, via, via. Eccoli che arrivano. Eccoli che arrivano. Eh, lui gli sparo. No, 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 abbastanza. Via. No, non l'ho colpito. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso. No, ma perché non muore? Com'è possibile? Tanto andiamo su di lui. Eh, però se va, esa. No, 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 un bottone. No, mannaggia. Sì, io gli sparo. Ah, perché mi mira il... Accidenti. Mi mira l'enforcer lui, lei. Ecco. Adesso è andato. Oh, bene. E adesso, e adesso, e adesso... Facciamo questo. Bene. Vai. Posso farli entrambi? No, pensavo di poterli fare entrambi. Faccio questo perché così mi curo. Perfetto. Basta, vi prego. Ah, infatti! Non mi ricorda molte cose che altri hanno preferito dimenticare. Ma io pensavo fosse morto. Cioè, la metropolitana è esplosa. Non lo so. Siamo vivi noi per miracolo. Oh! Posso curarmi? Vai. 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 Riconosco questo Zorn. Mi ha quasi spaventato a morte. Ah, è quello dell'altra volta! Oh, 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 oh! Ah! Dovevo... Arrugginisci in pace. Vabbè, dai. Abbiamo avuto anche un achievement. Ci siamo vendicati. Questa zona non mi spera. Guardate, così impaziente di estinguere una nuova era di illuminismo. Preferirebbe farci vivere nelle tenebre dell'individualismo. Andate, figli miei! Dividete con lei il mio sogno! Ah, beh. Qua ci divertiamo. Ecco, appunto. Cosa ho appena detto. Ah, aspetta. C'è un enforcer. E allora, sai che ti faccio? Ti faccio una bomba... No, non posso! Aspetta, così... Forse adesso posso. Ma spostatevi! Eh, esatto. Dovevo togliergli lo scudo. Via, 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 via! No, via, via! Uh, ce l'ho fatta per un pelo. È un nuovo pressen. Aspettate che faccio così, altrimenti la... La scritta non sparisce. Assaggiate il potere collettivo! Aspetta, no. Non volevo, non volevo, non volevo! Così. E adesso, vai. Il mio lavoro è il futuro. Ah, ma dove arriva questo? Sono il futuro! Non uccidetela! Voglio assaporare la sua mente. Wow, con quale mossa! No, sbagliato combo! Aia! Aspetta. Questo era il sogno di Charles! Che sarebbe il padre di Neilinefra l'altro! E allora? Ma faccio questo! Oh, là! Eh, vabbè, qua... Oddio, anche questo! Allora, aspetta! Aspetta, fammi... Fatemi pensare cosa posso usare. Eh, no, devo usare la bomba. Anzi, no. Sai che ti uso? Ti uso questo qui. No, maledetto! Su di loro! Vai! Che dura poco! Ok. Uno è andato. Su di lui, vai! Che devo ricaricare la barra. Facciamo così. Questa qua me la metto tutta di raffreddamento. Posso? Devo sbloccarmi questo, va bene, vai. L'ultimo, vabbè, dai, me lo lascio di cura. Via! Via! Aia! È però sbaglio la combo! L'individualismo è obsoleto! Dai, nove secondi! Via! 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 Aspetta sei secondi e ce la facciamo. C'è una bella bomba. Vai! Eh, non su di lui, ma su di lei. E su di lui, sempre. Via, 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 via! No, ma non è morto nessuno! Ah! Ah, bene. Sono andati. Ma mi sono rimasti questi. Questo era il sogno di Charles! Eh, niente, facciamo come sempre. Uno così. E poi via di cura. Ci mettiamo più tempo, ma recupero vita. E questi qua sono... difficili. Basta di... Assaggiate un potere collettivo! Basta di... Ok, è andato. No, allora andiamo di cura e basta. Basta che muoia, però! E allora? Allora... Allora... Paura, eh? No! Che cosa? Aia! Che dentata! Nessuno può impedirmi di finire il mio lavoro. E tu, cacciatrice di ricordi, tu non potrai più... No! 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 Grazie, Johnny! Credo che... Alla fine si sia vendicato. Non penso sia passato dalla parte dei buoni. Semplicemente si è vendicato per quello che Quaid gli ha fatto. Di qua. Beh, per questo! Fai qualcosa, ti prego! Bed, sono Nealyn. Mi senti? Ti tireremo fuori di qui. Quaid... Non è più nella mia testa. Grazie. Sì. Grazie, cacciatrice di ricordi. Grazie per aver aperto le porte. Johnny Green Teeth. Non eri un semplice soggetto da laboratorio. Vero? Dottor Green. Così vuoto. Così vero! Il passato è una terra sconosciuta. Farò in modo che tutti sappiano che cosa ti hanno fatto qui dentro. Eravamo dei mostri. Ma eravamo liberi. Lui voleva renderci suoi schiavi. Quaid è morto. È finita ora. Autenticazione codice nero accettata. Sequenza di autodistruzione avviata. Come autodistruzione? È finita. Sebastian ha pagato. Ora tocca a te, cacciatrice di ricordi. Poi toccherà a me. Tutto questo orrore verrà cancellato dalle fiamme! Oddio. Che... Che... Nelina è spostati... Ah, beh. Questo è un bel problema. Aspetta! No! Si sposta! Allora, dobbiamo cercare una tattica giusta. Io proverai prima con la furia. Così mi libero un po' di loro. Ottimo. Spostati! Ah, sono tornati. Spostati! Avrei la bomba logica! Eh, però no. Volevo farla su di lui. Adesso? Ah, no. Non mi lascia. Vabbè, dai. Facciamola sul tipetto qua. Vediamo se riesco comunque a colpirlo. No, non ce l'ho fatta. Ah, attenta, attenta! Ok, ho già ripristinato tutto. No, senti! Ah, aspetta, no! No! Facciamo un'altra bomba! Su questo. La morte senza volto. Via! Ti vedo! Trovo un modo... Ah, trova! Che cosa? Un modo per evitare che i green team si... Aspetta, ho capito. Si tratta sporti. Vado di questo, allora. Dove sei? Eccolo! E basta, voi! Ah, ho capito. Ho capito, però devo liberarmi di loro prima. Via, 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 via. Vai di furia. No, anche se effettivamente la furia potrebbe servirmi su di lui. Appena lo vedo. Morte silenziosa. Termino! Sì! Y! X! Oddio! B, B! No, ho sbagliato! No, invece ho fatto giusto. No, è morto Patery Quest! Neelin, Johnny ha ordinato la distruzione dei laboratori. Salterà tutto. Devi scappare. No, è morto Patery Quest! No, è morto Patery Quest! L'umanità è una serie incompleta di uomini irreparabilmente isolati a caso della propria soggettività. La nebbia non mi affosca più la mente. Ora vedo tutto più chiaro. Memorize, il Sensen, il Hiper! Questi orribili esperimenti segreti è tutto collegato! Mi sento spinta a distruggere questa falsa utopia. Devo trovare il cubo della concezione situato al cuore dell'amnemopolis di Charles Cartier-Wells. È lì che la maledizione del Sensen è custodita, nutrita, immersa nella fredda luce generata dai server centrali di Memorize. Nulla potrà fermarmi nel mio intento. Né le macchine assassine, né i Hiper che cianciano, né il padre che non riesco a ricordare. Episodio 7 Paradiso perduto Oh, siamo arrivati a Mnemopolis alle 23.37 Paradiso perduto Distruggete Memorize così che il mondo dimentichi anche il nome Cartier-Wells. Prenderemo a David quando tutto sarà finito. Grazie, Olga. Wow, che aggiunta! Avrei dovuto chiederti di reclutarla prima. Ok, concentriamoci. Devi trovare la postazione di sicurezza principale di Mnemopolis e arrivarci. Va bene, siamo arrivati al cuore dell'industria del Sensen. E a quanto ho capito dobbiamo trovare il padre di Neelin. Va bene, direi comunque che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un piaccio e commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!